L'iniziativa che si è svolta a Favara lo scorso sabato dal tema Urban Forum Città Laboratorio e che ha visto la presenza di numerosi professionisti confrontarsi e discutere di quattro punti tematici come promozione turistica, sociale, riqualificazione urbana, servizi e norme con amministratori locali e regionali e il mondo della politica attiva, getta anche le premesse per tracciare a Favara un programma sui punti in discussione come piattaforma programmatica del Partito Democratico in vista del prossimo appuntamento elettorale considerato che la città andrà al voto in primavera scadendo il mandato naturale dell'attuale consigliatura. Continua un percorso che ci porta verso la città futura, ci siamo dati un traguardo che è quello di immaginare questa città nel futuro e quindi anche per le prossime amministrative in una forma partecipata, in un programma che vede i cittadini protagonisti. Questa è un'altra tappa importante di questo cammino. Oggi cittadini, giovani, operatori commerciali, imprenditori, architetti, ingegneri, geologi hanno vissuto con noi una giornata non stop di dialogo, di discussione sui temi del centro storico e su come immaginare questa città in forma nuova, diversa. Emersa la volontà di una città che vuole essere governata, che vuole un buon governo e vuole una buona politica. Questo è l'obiettivo che si prefigge il Partito Democratico nella sua interezza. Oggi gli interlocutori istituzionali, quelli del nostro Partito Democratico, sono qui per rappresentare ancora questo impegno, un impegno già concreto che c'è stato con la legge sui centri storici, dopo l'iniziativa di Favara Crolla. Questo impegno continua, continua con il Partito Democratico nel circolo di Favara, continua con i suoi interlocutori, con i suoi parlamentari. In questa città vogliamo rappresentare quell'esperienza di buona politica che darà la possibilità di governare ancora meglio questo processo economico che vede nella città grande risveglio e grande rinascita. È stata una giornata importante perché è stata una giornata di incontro e di confronto per ipotizzare e cominciare a programmare insieme le linee guida della città del futuro e di Favara. Ovviamente per il Partito Democratico è fondamentale sostenere iniziative come quella organizzata qui oggi a Favara per il Favara Urban Forum perché abbiamo bisogno non solo di ascoltare le indicazioni che cittadini, professionisti e coloro che animano le nostre città ritengono di dover dare alla politica ma soprattutto per costruire nuovi strumenti di buona governance che ci consentiranno ovviamente di costruire la migliore campagna elettorale per le prossime amministrative. Il qui di più sta nelle relazioni che ho sentito nel potersi candidare alla guida di questa città ma ancora prima per i numeri e per le proposte. Non dobbiamo dimenticare che Favara è diventato centro commerciale naturale e potrebbe essere così come vogliamo la realizzazione della legge sul paese albergo. È insieme un luogo che ha avuto urbanisticamente una serie di problemi ma che via via si devono affrontare e risolvere. Dobbiamo dire che le condizioni degli edifici, quindi la messa in sicurezza degli edifici è uno dei punti peculiari dell'attività del governo della città che naturalmente non possono farsi da soli.